Ne vuoi sentire una bella? Ma veloce. Qui c'è un medicinale, guarda quanti sono fregni. Lei inquadri il signor Marcello. Localin e Neomicina. Questi sono due tubetti uguali, Localin e Neomicina. L'azienda che lo fa è Ricordati. Sta scritto qua. Questa è una medicina, è una pomata che io usavo per una dermatite, che prima funzionava. L'hanno cambiata. Prima si chiamava Localin Neomicina, ora si chiama Localin 0,025% più 325.000 UI 100 grammi creme. Si capisce? Non c'è i sardiniani. Una cosa è certa. Questa acqua nuova non fa niente. È come se ti mettesse, capite, lo sapone. Niente. Questa era una giusta pomata. Siccome questa andava bene, va a sostituire con una che non va bene. Hai capito? Quindi fate se... Può essere uno dei modi per non far arrivare le persone alla pensione, visto quello che succede in questi giorni. No, ma questa, caro Sergio, questa è una semplice pomata per far capire che tanti medicinali li stanno abbassando come funzionalità. Si. Se ti devo dire, prima c'erano degli antibiotici che andavano bene. Oggi con gli stessi antibiotici, una PA, l'U doppio, una scatola in più per cercare di raggiungere un risultato che non esce mai. Non so se... Io non so se è per una questione di aumenti, non lo so, comunque non me ne frega niente. Io dico solo, e sono un osservatore, questa è Paschifa, localine neomicina, questa acqua rossa, questa acqua, caro e ricordate, era una buona medicina. Come al solito in Italia, per dire che cosa, che in Italia se ci stanno le cose che funzionano, si devono togliere. Certo. Tanto perché...